e anche quest'anno è arrivata la pasqua che cosa ci sarà dentro l'uovo un pokemon pikachu le compro tutti 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 e i ragazzi indovinate un po chi sono chi sono chi sono sorpresa non mi avevate riconosciuta vero con questa posso fare un sacco di scherzi alle mie amiche puoi essere quello che desideri puoi oh ma è un uovo bellissimo faccio subito una story ciao ragazze avete visto che uovo gigante è fashionissimo ehi 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 fermoli ti ho visto sai dove credi di andare corri ad allenarti e comincia a smaltire il cioccolato oh no 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 niente non voglio sentir parlare di diete quest'anno hanno esagerato guardate la sorpresa è più grande di me ma il mio uovo dov'è il mio uovo scusate il mio uovo manca il mio uovo perché perché anch'io volevo avere un uovo tutto mio con tante belle sorprese vieni si ti aiuterò ma non hai capito niente non dovevo essere io la sorpresa è fatta ragazze parte la gara della sorpresa più bella oh questa sì che è una sorpresa originale super top ken ken la voglio anch'io e ricordate di iscrivervi al canale e cliccate sulla campanella perché quando ci va faremo uscire nuovi video ciao lo sapete sono fatte così buona pasqua ciao ciao ciao